Scario torna a essere sede dell'ufficio locale marittimo. Sabato 29 maggio alle 12 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali che accoglieranno i militari della Capitaneria di Porto. Sono trascorsi quasi dieci anni da quando l'ufficio chiuse battenti per ragionamenti legati alla spending review. Era il 2012 quando il territorio diede l'addio a questo ulteriore presidio dell'autorità marittima. Nel tempo ci si è resi conto della necessità di riaprire la sede non solo per la presenza dell'aria marina protetta e per la necessità di un'ulteriore più vicina e puntuale tutela ambientale ma anche perché l'ufficio locale marittimo di Scario aveva un'ampia competenza che monitorava anche il territorio di Policastro e Capitello. L'amministrazione comunale di San Giovanni Appiro è stata pronta così ad offrire nuovi locali recentemente ristrutturati e questa volta proprio presenti sul porto al centro dell'infrastruttura per ospitare i militari della Capitaneria di Porto che per il momento saranno tre prima di raggiungere le quattro unità a partire da settembre. A guidarli sarà il comandante Antonello Scaldaferri capo di prima classe. Sabato alla cerimonia di inaugurazione sarà presente il comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto l'ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino. Per l'occasione saranno allestiti degli stand per sensibilizzare la popolazione ai temi ambientali in particolare al cambiamento climatico e al riscaldamento globale. Un momento frutto del protocollo d'intesa nazionale tra il Ministero dell'Ambiente e il corpo delle Capitanerie di Porto che spinge proprio all'organizzazione di tali iniziative e che prevede inoltre per le sedi delle Capitanerie nei pressi dell'area marine protette anche la dotazione di una macchina elettrica e di una sonda parametrica per verificare ogni bimestre la temperatura e la caratterizzazione delle acque nelle varie aree del Parco Marino. Durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo ufficio locale marittimo di Scario anche le scolaresche del posto daranno il loro contributo alla giornata. Grazie a tutti.